Proporremo al Capo dello Stato e alle altre forze politiche un contratto di governo serio scritto nero su bianco alla tedesca, ovviamente con Di Maio Premier, che abbia all'interno non solo i temi del nostro programma, ma che abbia all'interno anche dei temi, dei programmi delle altre forze politiche e che abbia come scopo quello di risolvere i problemi degli italiani, perché questo è il vero cambiamento che gli elettori hanno dato con il voto del 4 marzo. Grazie.